Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. La storia di Lorin Nieve, una donna olandese di 28 anni, ha toccato il cuore di molti in tutto il mondo. Affrontando una serie di sfide mediche, inclusa una lotta contro l'encefalomielite mialgica, Lorin ha affrontato una realtà difficile che ha portato molti a riflettere sulle complessità della vita e della sofferenza umana. Da qualche tempo Lorin aveva iniziato a condividere il suo percorso di vita sui social media, ma è stato nel 2022 che ha preso la decisione di aprire completamente la sua vita al mondo. Ha raccontato, con una sincerità disarmante, ogni passaggio del suo cammino verso l'eutanasia, una decisione estrema che ha preso dopo aver esaurito tutte le altre opzioni di trattamento. Le sue parole, i suoi pensieri, e i momenti più intimi sono stati condivisi con il mondo attraverso Twitter e YouTube, dando a chi la seguiva una finestra sulla sua esistenza quotidiana. Diagnosticata nel 2019, l'encefalomielite mialgica ha portato Lorin a sperimentare un'estrema fatica sia fisica che mentale, una condizione esasperante che non le dava tregua neanche nel sonno. Oltre a questo, ha dovuto affrontare altre difficoltà di salute, tra cui l'autismo, l'ansia e una forma di iperattività che influiva sul suo comportamento. Lorin, vivendo nei Paesi Bassi, dove l'eutanasia è una pratica legale dal 2002, ha fatto la scelta di avvalersi di questa opzione dopo aver considerato a lungo e con grande sofferenza le sue possibilità. La sua storia ha sollevato questioni importanti e spesso difficili sulle malattie croniche, sulle scelte di fine vita e sul diritto delle persone di decidere del proprio destino quando la sofferenza diventa insostenibile. In uno dei suoi commoventi tweet finali, Lorin ha ringraziato tutti coloro che l'hanno seguita e sostenuta, sottolineando quanto il loro supporto l'abbia aiutata a sentirsi meno sola.